Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, quest'oggi ragazzoli nessun videogame, nessun gameplay, ma sono qua per registrare un video dove vi mostrerò quello che sarà la mia nuova casa ragazzoli, partiamo da qua che sarà l'angolo della cucina ragazzoli, lo sto registrando adesso in questa postazione provvisoria, ecco qua, tavolaccio con computer e tutto quanto il resto, però ragazzi il top, angolo del lavoro con macchinetta del caffè, bellissimo, si può fare due, a parte di questo ragazzi comunque per momento sentite comunque l'eco della stanza perché è tutto quanto vuoto, non c'è ancora una, la cucina comprendrà tutta questa parte, quello che andremo soltanto a vedere saranno soltanto queste mattonelle colorate, sopra i sargimenti, con sportelli e sotto tutto quanto l'ingresso della cucina, mobili, frigorifero che andrà in quest'angolo e tutto quanto il resto, il lavandino in quest'angolo di qua e così, di qua abbiamo il terrazzo, vi faccio vedere subito, il terrazzino è piccolino ma comunque se non lo volessi contare qualsiasi cosa, lo capisci, si fa anche il bar di più un giorno e nessuno, questa invece sarà la sola, sarà la sala principale, al momento c'è il trono, qui ne è rimasta già 40 anni, sta coltornando, è la regina vera della casa, e niente, questa via è una sala, non è grandissima, la faccio vedere qua magari da lontano, però comunque vabbè, questa è la sala che su questa parete, perché vedete il suo valore sub giallo, arancione, anzi, arancione giallo, ci sarà poi un mobile dove andremo a metterci un tv e vari mobili sopra, e solo in modo di essere abbastanza libera la stanza, qui nel mezzo, per il momento, finché non avrò la cucina, io direi di fare una cosa, mettere ovviamente un divano qui nel mezzo, in modo da avere tutto quanto quasi un open space tra zona cucina e sala, e questa coltrona, da quest'altro angolo lì, in quel momento, vedi, c'è il modo del grande assegno della finta, quindi per il momento, ragazzi, la PC, internet in casa, quella linea attiva, è già metà dell'opera, e in questo possiamo già dire che è abitabile al 100%. In futuro il divano potremo spostarlo da un'altra parte, magari metterci il tavolo per pranzare, invece, per il momento, lo otteniamo qua in cucina, anche se la cucina non c'è, ma se uno vuole solo ottenere una pizza, lo otteniamo. Questo invece, ricordo di noi, ragazzuoli, la porta di ingresso e si va fino alle camere da quest'altra parte, signori. Questo qua, ragazzuoli, è l'ingresso notte, l'unica stanza, per il momento, che è, diciamo, quasi al 100% conclusa, è il bagno, ovvero il mio secondo regno, signore, sì, il regno dell'oscurità, perché sì, gran parte del giorno la passo anche qua dentro, quindi si può dire che sì, sono un regno del bagno. La camera dal vetro, questa qua, signori, eccola qua, anche visto che più o meno è quasi completa di tutto, già qui si sente già meno che l'epo, perché già ci sono i mobili che riempiono una stanza, quindi abbastanza più piena lo è. Abbiamo il mobile, armario, scusate, cassettiera e letto. Come dire, per il momento non c'è altro, c'è veramente qualche qualcosa dentro al letto, un disegno, che ne so, e magari anche uno specchio da quest'altra parte, ci sta, e sicuramente andrà a essere riempita di qualcosa, magari una tv, boh, comunque, al momento le spese ci sono anche da fare l'abbastanza. La cosa figa, ragazzuoli, è questa qua, guardate la luce, che quando vado a spengerla, non so se si nota, ecco, dovrebbe essere più calda sul giallo adesso, recendendola invece è sull'azzurro, vedi, vedi, cambia, 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 è ancora più bianca, è sempre più fredda, e questa è una piccola piccola, comunque. La stanza, invece, che adesso andremo a vedere, sarà il mio vero regno, ovvero anche, diciamo, l'ufficio, e anche la prossima postazione dove andremo a registrare i video, ed è questa qua, ragazza. Questa è la stanza, vuotissima, mi sento, ripeto, non è crudibile. Come io ne abbiamo una chitaria, si è andata a suonarla, mi scotendano, veramente, tipo, spedano. L'idea di questa stanza, come vedete, in tutta la casa ci sono queste finestre, sono rette. Al momento teniamo queste, poi, in futuro, le camperemo, le metteremo differenti, non le inferno in questo modo, fate un brutto. Questa, però, si apre da questo lato, quando devo mettere la nuova, la apriremo dal lato vostro, perché qui ci vorremmo, poi, con un divano letto, perché, se ci mette un divano, la finestra, sempre di qua, c'è più a capo, ma ammazza. Su questa maniera di persone, invece, andremo a me, perciò, quello che, per me, lo vedete anche nella mia vecchia camera, dove c'erano i quadri, Assassin's Creed, videogames, Kingdom Hearts, Brock Lesnar, quello che, più o meno, avete visto nei video, insomma, il vetro della mia camera, andrà, per me, ad essere installato qua. Poi, c'è la mia impressione, anche, qualche altro scaffale, in modo che si veda tutto il resto, che, in camera mi ha, esiste, ma che avete, forse, non ho mai visto. Action figures, pupazzi, cioè, tutto, per esempio, tutto quanto. Mentre, su quest'altro lato, in quest'angelo, che ragazzo, ci sarà, la postazione, il lavoro. Farà neanche uno, se dovrebbe arrivare una scrivania, che è di un metro e mezzo, su questo lato, che mi farà lato fino a due metri e mezzo da quest'altro, per arrivare più o meno, fino a qua, dove avrete visto il supercentro di tutto quanto, quello che mi serve, computer, televisione, PlayStation, tutto quello, specialmente per il gaming e per la registrazione. Sarà, finalmente, la postazione ufficiale dei prossimi video. E voglio che sia fatta bene. Non come quello già adesso, che è un po' precario, ma come vedi, se uno vuole iniziare a fare i video, basta un computer da buona connessione. Cioè, vuole nemmeno i grandissimi computer, tutti quanti super colorati. Magari, su questo lato, ci metterò una cassettiera, dove, ovviamente, tutto quanto il resto, mi serve i fili per compiuto il tutto quanto, sull'angolo di astrivania, mi metterci il computer per collegarlo alla tv, che lavorerò direttamente sulla tv per registrare. Il computer sta soltanto per gestire le cose, basta, gestire i video, quindi per impulsanti e lavoro su tv. E la cosa bella è che questa luce non è abbastanza, ma è regolabile. Io posso, di meno media di intensità, aumentarla al crescimento, mettere 25, 50, 75, o spenderla. Bellissimo, bellissimo. Mi vedo allora, ragazzi, mi trasferisco in tutta l'unica e fare tutto quello che poi bisogna già fare. E, niente ragazzi, questo è il mio video che ho fatto mostrato, più che altro, a casa, quello che c'è adesso, per il momento è molto spogna, molto vuota, c'è ancora un sacco di roba da lavorare, però, mi piace. Per un carburio, ragazzi, adesso mi torno là a registrare, insieme a prenderò un bel caffè, e spero che se vi ci spiegherò, ci vediamo nel prossimo, ciao a tutti ragazzi.